Buongiorno, sono Alessandro Cioeta, presidente della UIRSE, Unione Italiana dei Cooperatori Stagiudiziali. L'associazione è nata da circa un anno e nasce con la volontà di tutelare gli addetti ai lavori, non solo sotto il punto di vista di una pura tutela lavorativa, ma anche come crescita professionale. Quindi pertanto anche sotto il punto di vista della formazione, in quanto è assolutamente necessario intraprendere questa strada per migliorare l'intero comparto lavorativo. L'associazione ha patrocinato l'evento Stop Secret, in quanto vede le tematiche di questo evento molto vicine alla propria attività lavorativa. Pertanto siamo lieti di aver partecipato all'evento e trarremo sicuramente degli spunti importanti anche per la nostra attività lavorativa. Grazie per la visione!